Approvvisamente cambia tutto e dice sto con il centrosinistra o con il campo largo, con i 5 Stelle e con la Schlein. La domanda dovrebbe farla la Cuzzocrea, perché Annalisa Cuzzocrea, dieci giorni dopo le europee, più o meno, fa un'intervista alla Ellie Schlein in cui le domanda, ma come si fa, insomma, le domanda, le cose che chi ha letto l'intervista sa, e Schlein dice basta Veti, noi vogliamo mettere insieme le esperienze di tutti quelli che non stanno con la Meloni. La riflessione della Schlein è intelligente, perché? Perché se tu guardi i numeri, matematicamente la Meloni non ha la maggioranza in Italia, non l'aveva nel 22 e non l'aveva nel 24. La Meloni ha la maggioranza nel momento in cui si contano i seggi parlamentari per effetto delle divisioni del centrosinistra, dei Veti, quelli che aveva messo, non c'era la Schlein, allora c'era Enrico Letta. Un veto su di lei. Ma non tanto solo su di me, aveva comprensibilmente, credo, rotto con i 5 Stelle perché si era appena consumata la vicenda Draghi, aveva messo un veto su Italia Viva. Aveva tenuto dentro Carenda che ha cambiato idea quei giorni dopo. Però Carenda si sentiva in quel momento lì minacciato dalla presenza di un partito al centro. E se n'è andato. Fatto sta che la conclusione è che Giorgia Meloni, con il 26% dei voti, ha preso la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento con la coalizione. Allora, la questione è molto semplice. Se mettiamo insieme di nuovo i Veti, rivince la Meloni. Quindi vi trovate per altri 5 anni Salvini, Lollobrigida, del Mastro delle Vedove, Gennaro San Giuliano e tutti gli altri. Se si riesce a fare un accordo difficilissimo, guai a farla breve, può nascere un'alternativa che oggi è maggioranza numerica, ma non è maggioranza politica. E per far questo, però, la questione è molto semplice. Bisogna mettersi d'accordo sulle cose da fare. Perché io e Conte, e anche io e tanti del PD, su tanti contenuti non andiamo d'accordo. Questo l'avevamo un po' intuito. L'avevamo vagamente intuito. E quindi la domanda è, riesci a fare quello che Prodi, in lo tempore, chiamava cantiere, mi pare che si chiamasse il cantiere del programma, nel 2006. I tedeschi lo chiamano il contratto alla tedesca. Sì, ma lei sa quando ho sentito parlare l'ultima volta del contratto alla tedesca? Governo giallo-verde. Ecco appunto, non è andata molto bene. Il governo giallo-verde, io non ho condiviso nulla del governo giallo-verde e sono orgoglioso di aver mandato a casa Salvini. Quindi se il vostro inviato glielo ricorda, era non a Cervi. Adesso le ricordiamo noi una cosa, anzi, le ne ricordiamo più di una perché lei è veloce, perché abbiamo tanti temi. La domanda è, cosa vuol dire il contratto alla tedesca? È un metodo di lavoro che in Germania hanno sempre, che vinca la sinistra, la destra. Per esempio, nel settembre 25 vincerà la CDU in Germania, vincerà Mertz e quindi farà un contratto per decidere cosa fare e cosa non fare. Secondo me questa è una buona idea. E con chi farlo? Come? E con chi farlo? E con chi farlo? Il punto è cosa si scrive in quel contratto su Ucraina, cosa si scrive su giustizia, cosa si scrive su infrastrutture, su lavoro, su ambiente. Su Jobs Act, cosa si scrive in quel contratto? Il Jobs Act, io non ho dubbi sul dire che per me il Jobs Act è una grande legge e io farò battaglia, farò la mia campagna contro il referendum sul Jobs Act. Ricordiamo che Elislein ha firmato il referendum. Con la stessa, e tanti altri, Elislein e parte del PD. Farò battaglia contro quel referendum esattamente con la stessa vigore con cui lo farò per il referendum sull'autonomia. Però con la stessa franchezza, siccome non sono proprio uno umile io, so che le leggi che faccio io sono... Lei non se ne era accorta, però anche se non le è sembravo, io non sono così umile, quindi tendo a credere che le mie leggi siano bellissime. Però sta dicendo che accetterebbe il risultato? No, quello è ovvio, però il ragionamento è che io sono convinto che il Jobs Act abbia fatto bene all'Italia. Oggi, per i prossimi dieci anni, non serve ragionare di cosa ha fatto Renzi dieci anni fa. Ragazzi, ho i capelli bianchi ormai. La domanda è, i ragazzi oggi non è che non trovano lavoro, il lavoro c'è, è che non è pagato bene. Il primo salario per chi si è laureato è basso. Chi si laurea se ne va, va che sia un dottore, che sia un ingegnere. Allora questo è il vero Jobs Act del futuro. È cambiata la fase. Attenzione, questa è una cosa forte. Renzi sta dicendo che è una guerra del passato? Che io combatto perché difendo la mia identità, ma oggi il futuro è un'altra cosa. Non è più un discrimine. Non è più un discrimine. Mi sembra che è il lavoro di domani, su cosa lo fai. Faccio un esempio, intelligenza artificiale. È una domanda. Intelligenza artificiale. Noi abbiamo un no consapevolezza che cambierà totalmente il modo di prendere e di creare lavoro. Io credo che questo sia... Per me il lavoro umano e l'intelligenza umana non la cancellerà mai nessuno. Mia opinione. Però oggettivamente in tanti fenomeni cambieranno le regole del gioco. E quindi è tutto da riscrivere. Ma cambieranno anche il studio d'energia, scusi. Ma scusi, noi parliamo oggi di un mix... No, però non ce l'ontaniamo. Mariana vuole fare una cosa, ma il titolo è... Lo difendo, ma non è più un dogma. Io lo continuo a difendere. Sono orgoglioso di averlo fatto con l'Industria 4.0, l'Unione Civile. Non mi fate fare la solita parte del Renzi che difende le sue regole. No, le mandiamo sul Jobs Act. Io le difendo tutte, a cominciare dal Jobs Act. Ma per il futuro, il Jobs Act, che andava bene, benissimo, e viva il Jobs Act nel 2014, nel 2024 non è più un tema di discussione. Ma soprattutto per il 2034. Finisco su questa cosa dell'intelligenza artificiale, perché non la dice mai nessuno. Noi continuiamo a considerare l'intelligenza artificiale senza considerare il fabbisogno energetico che chiama. Cioè, alla fine, per avere l'intelligenza... Oggi noi consumiamo X. Per far funzionare i data center, i cervelloni elettronici, scusate se la dico male... È un consumo energibile, diciamo. Tre volte, ci avremo bisogno di tre volte l'energia che abbiamo oggi. Dove la prendiamo in un paese in cui l'energia non l'abbiamo? Allora, per esempio, secondo me, il petrolio, che abbiamo tutti immaginato si potesse fare a meno, invece continuerà, secondo le stime internazionali, a essere estratto. Poi c'è il tema delle rinnovabili, e ci sono le sovintendenze che ne blocchano. Aspetta, se no andiamo veramente in lidi... Già sul petrolio, tanto ricominceranno a litigare pure... No, ma non è che litighiamo, è chiaro che il gas... Il gas, vogliamo parlare del gas? Di quello che vuole, io parlo di tutto. No, che con l'Algeria, con questi giorni, abbiamo dei problemi. Il gas lasciamolo in stade, però...